Il coraggio del pettirosso di Connie tratto dalla raccolta di racconti ad alta voce Mia suocera me lo ripete ogni volta dopo un sospiro, scandendo ogni parola come se si rivolgesse a un sordo che legge il labiale. Benedetta ragazza, quando Luca è così devi farti piccola come una formicuzza e se ti fai trasparente è pure meglio. L'ho sempre fatto anch'io con suo padre. Il lavoro lo innervosisce, povero figlio mio. Devi capirlo. Sono anni che lo capisco, dalla prima volta. E ieri è stata la 328esima. Le ho contate, tutte. Ho percepito lo spostamento d'aria un istante prima del bruciore secco alla guancia. Gli schiaffi a mano aperta sul viso sono sempre stati i suoi preferiti. Li regala così, senza cerimonie, come un caffè a fine pasto.